Cremone is Christmas, oggi siamo sotto l'albero di Natale, abbiamo inaugurato questa bellezza in piazza del Duomo, in piazza del Comune per la precisione e poi andremo a inaugurare anche il villaggio di Natale che è la novità di quest'anno perché resterà in piazza Roma dall'8 dicembre all'8 gennaio quindi è una possibilità importante di animazione rispetto ad acquisti sia di gastronomia che di abbigliamento C'è anche un'accessibilità nuova al centro attraverso la navetta di arriva? Esatto, proprio oggi abbiamo inaugurato e siamo arrivati io e l'assessore Pasquali sperimentando la navetta quindi dal capolinea che è in via Mantua, praticamente via Mantua 10 di fronte al parcheggio libero e arriva fino a piazzare Azzurri d'Italia ogni mezz'ora si può prendere ed è veramente un servizio importante proprio per il centro storico hashtag vado in centro è il nostro claim e andiamo a riproporlo anche quest'anno quindi venite in centro a fare acquisti, a vedere le mostre straordinarie, a sentire i concerti e tutte le animazioni che abbiamo Faccio il complimento al comune, al distratto del commercio e alle botterie del centro per l'organizzazione di questo Natale che secondo me sarà veramente spettacolare, ottimo Siamo molto contenti dell'iniziativa per il Natale di Cremona speriamo che possa aiutare il commercio cittadino anche in questo momento difficile l'indice di fiducia è positivo e quindi speriamo buoni acquisti